Si tratta di categoria specifica e quando ci siamo in contatto con Cranchi e noi abbiamo una riunione di alunione, con cui ci puoi aiutare Cranchi, ci sono informazioni per evitare che non ci sia il gasto. E' un punto alto, per esempio, che non si spera nel momento, quando ci siamo in sacco 6-5 florini per farlo. Se tratta di categoria, per esempio il passaporto da Cava, dove si tratta di nuovo? E se tratta di cranchi, per esempio, come per le informazioni senza alcuna di 5 e 6 donne, dove si tratta di un processo di chiedere? Esatto, se per esempio il paese, ci siamo in contatto con il sistema che non si tratta di autonomi di rilascizioni per darei che non si tratta di rilascizioni. Quindi, entrando per me di aprile del 2014, un'itfond di passaggio è 2,25 florini e un'itfond di 6,25 florini. Nossi entrega, se c'è una peticione per adattare la tariffa, è il tempo che la lega di lavoro è tratta di 2-3 anni per me, che è 30 in vigore. Quindi, la tariffa non è basata nel processo che non è applicabile per arrivare al documento. Anche passate, non è semplificato il processo, non è per l'entfond di passaggio, e per questo motivo, non è entregata anche a Dizema, un'itfond di passaggio per adattare la tariffa. Quindi, c'è una tariffa per adattare la tariffa, e probabilmente lo subi, se non comparare, per esempio, con Aruba, per più di 5 anni, Aruba cobrano 1,500 per un permittario. Quindi, nel nostro caso, non possiamo andare fuori di 0,5,500, per esempio, per esempio, 2,000 e un'itfond di passaggio. Quindi, non lo sapevano, non lo sapevano, non lo sapevano, non lo sapevano, ma il per il mercato 1,500 per un permittario. E, in tutto questo, la tariffa per adattare la tariffa di offerta, e un'itfond di passaggio, e anche per la nostra città è una città che non si tratta di passare quindi non si tratta di passare in Yucarso in Bona, in Holanda, non si tratta di passare ma non si tratta di passare quindi una famiglia si è bene, ora che è qui andano e abbiamo bisogno di passare di passare una famiglia di quattro anni e poi non si tratta di passare a città non si tratta di passare una soluzione non si tratta di passare di Yucarso non si tratta di passare anche in categoria ma si tratta di passare a comporare il gruppo